Gentili telespettatori, buona giornata. Fedez, durante il festival di Sanremo sul palco, visto da 11 milioni di persone, quindi ha più visualizzazioni di me in un mese, vabbè, a parte gli scherzi, tira fuori una foto a colori del sottosegretario Galeazzo Bignami, vestito da militare tedesco al servizio del dittatore. Si tratta di uno scatto risalente al 2005, quando l'attuale viceministro delle infrastrutture di trasporti si fece fotografare con una divisa di quel tempo in occasione del suo addio al celibato. Bignami si è ripetutamente scusato per quella foto scattata in un contesto privato e ha ovviamente preso le distanze dalla dittatura di quei tempi in Germania, ma ciclicamente quello scatto salta fuori. Allora, anche in questo caso non fraintendetemi. La Meloni sta governando. La Meloni sta mettendo tutto il suo sforzo per far passare il suo partito come partito conservatore con nessun legame con nostalgici o gente che inneggia a dei passati in bianco e nero. Si sta facendo accettare in Europa, negli Stati Uniti, nel Nord Africa. Milioni di italiani l'hanno votata. Un elettore su tre ha votato Giorgia Meloni. Ha votato Giorgia Meloni perché è un partito conservatore e non un partito formato da gruppi di nostalgici. Bene. La domanda che vorrei fare io a Giorgia Meloni, ascoltatemi bene, senza che voi fraintendiate. Giorgia Meloni, attuale miglior politico italiano, l'unica persona che possa guidare oggi un governo, quindi ha la mia piena fiducia in questo momento. domani non lo so, in questo momento alla mia piena fiducia, mi chiedo io, perché, perché, sapendo che la foto di questo Galeazzo Bignani sarebbe venuta fuori da qui all'eternità, perché farlo diventare vice ministro delle infrastrutture dei trasporti, una persona che ha una foto che circola vestito così? Voi direte che c'entra. Eh no, c'entra. C'entra come? Io non mi sono mai vestito in quel modo. Perché dovrebbe venirmi in mente di vestirmi da militare della Germania di quel tempo? Perché? A me non verrebbe in mente. Perché a lui viene in mente? Perché fidanza fa i saluti romani? Perché la russa c'è il busto del dittatore? Perché quegli altri si chiamano camerati in giro per Milano? Perché a quell'altro del Mastro c'è una fotografia in internet dove ha una maglietta di un gruppo di estrema destra che inneggia alla Germania della seconda guerra mondiale e chiedeva la liberazione di Erik Pribke, quello delle fosse ardeatine. Perché la Meloni prende queste persone che magari conosce da tanti anni? Saranno amici? Ma una cosa sono gli amici? Una cosa è riempire il governo di persone con magliette di gruppi musicali che esaltano Erik Pribke, di gente che fa i saluti romani, di gente che ha i busti a casa? Ha voglia poi di dire il mio partito non è mica di nostalgici? Ha voglia di poi di dire queste robe qua? Poi non ci crede nessuno ovviamente. E poi succede che questo FedEx va a Sanremo con la foto dire questi sono quelli che sono al governo, vice ministro con la divisa della Germania. Ha ragione? Chi ha ragione? O meglio, FedEx. Vi può stare simpatico o antipatico? Potete essere invidiosi perché è molto ricco, ha la Lamborghini, si è comprato l'ultima Ferrari ed è un cantante di successo, è un influencer di successo. Spesso lui e la moglie sono milionari, stramilionari, quindi subentra anche l'invidia social, l'invidia sociale che è quella di attaccare chi ha soldi perché oggi molti credono che essere arrivati, essere qualcuno vuol dire avere i soldi e avere la visibilità. E questa coppia di sposi hanno soldi e visibilità. Attici, superattici, Lamborghini, bellezza, gioventù, hanno tutto. Quindi, lasciate perdere il FedEx milionario, lasciate perdere FedEx, il suo gesto, che è un gesto di un certo tipo. È sbagliato o è giusto? Indipendentemente che lui sia milionario, lasciate perdere. È giusto che un Galeazzo Bignami con quel passato, anche se è una foto, una foto ti rovina la vita, è una foto ti può rovinare la vita. Pensateci bene, una foto ti può rovinare la vita. Anche una foto fatta 15 anni fa ti può rovinare la vita. Eh sì, sono dei marchi. Io non mi sono mai vestito così, io non ho mai messo le magliette inneggianti a quei gruppi di estremissima destra, io non ho mai fatto i saluti romani a Milano passeggiando in giro, non ho mai parlato di birrerie in giro per Milano, non mi sono mai rivolto da altri come camerati, non ho il busto del dittatore da qualche parte qui. Ecco, insomma, a ogni azione c'è una conseguenza, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Quindi, è giusto che Galeazzo Bignami sia viceministro con quel passato? È giusto che FedEx al Festival di Sanremo tiri fuori la foto di uno in divisa che oggi è viceministro? La mia è una domanda, il mio video è cercare di aprire la discussione su dei temi senza ipocrisia. Togliamoci questa ipocrisia, questa falsa ipocrisia del sorrisino e del dire delle bagianate. Non diciamo bagianate, c'è un FedEx, questo è un viceministro davanti a 11 milioni di persone, dall'altra parte c'è chi elegge quello con il passato come viceministro. Chi è che sbaglia? FedEx o chi lo fa viceministro? Mi faccio la domanda, voi che siete persone estremamente intelligenti, che vedete lungo su molte cose, su molte cose, anch'io mi sono ricreduto su tante cose che voi dicevate, mi sono ricreduto anch'io, mi sono ricreduto anch'io. E' due anni che tutto l'inverno ho mal di gola e tosse, non mi passa mai. Sapete cosa vuol dire? Che qualcuno, sono due anni che ogni inverno sto male per 3-4 mesi consecutivi. Tosse, influenza, per 4 mesi consecutivi, quest'anno uguale. Mi avete sentito tossire tutti i giorni. Perché mi si è rovinata la salute? E' questo che dico, molti di voi avevano ragione. E io non ci credevo. Mi sono ricreduto. Arrivederci a tutti.